Per trovare a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apre un'altra settimana dedicata all'informazione. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano la sanità. Preso d'assalto a Sulmona il laboratorio analisi. Gli utenti sono ancora sul piede di guerra. Sentiamo nel servizio di Andrea Daurelli. E di nuovo polemica laboratorio analisi dell'ospedale di Sulmona per i lunghi tempi d'attesa. Una mattinata da dimenticare, quella di oggi 30 aprile, per circa 100 utenti che si sono recati al nosocomio Peligno per le analisi del sangue, ma prima di accedere al servizio hanno dovuto attendere diverse ore. La raffica di segnalazioni ha raggiunto anche il vicino tribunale per i diritti del malato che aveva già interessato l'Asla Vezzano su Monalacuila. Caos e disagi si verificano laboratori analisi dal mese di marzo, da quando la sola infermiera rimasta in servizio si è ritrovata a gestire un flusso giornaliero di centinaia di utenti. A quel punto è intervenuta l'azienda sanitaria che annuncia il potenziamento della pianta organica con un'altra unità, infermiera, a partire dal 18 aprile. In realtà da ottobre esiste il problema di un'unità di personale in gravidanza con la richiesta di sostituzione che è pervenuta dal nosocomio in data 10 novembre 2017. L'ok dell'azienda sanitaria è arrivato il 20 febbraio 2018, tre messi per valutare l'istanza che hanno recato una serie di problematiche agli utenti, ma a quanto pare i disagi non sembrano cessati. A giudicare dalle nuove tensioni di questa mattina, probabilmente occorre un'altra unità alla pianta organica, ma lavoreremo per risolvere il problema. Fanno sapere dal Tribunale per i diritti del malato che non abbassa la guardia. Via Libera Sulmona, la convenzione pluriennale sui permessi per il suolo pubblico. Sentiamo. C'è il Via Libera da Palazzo San Francesco per l'approvazione dello schema di convenzione per l'installazione di strutture di ristoro all'aperto, annessa ai locali di pubblico esercizio. Ci aveva lavorato su, assieme agli uffici, l'ossessore comunale Cristian La Civita ed ora la determina dirigenziale sarà pubblicata sull'albopretorio del sito istituzionale del Comune di Sulmona. Dopo il caos delle autorizzazioni per il suolo pubblico che non sono arrivate in tempo utile per Pasqua, arriva la convenzione pluriennale che permette agli esercenti di evitare di sottoporsi alla trafila burocratica ogni anno. Nella determina viene spiegato che lo schema di convenzione permette di richiedere l'autorizzazione per occupazione del suolo pubblico con durata annuale o pluriennale per un massimo di cinque anni e i rapporti tra il comune e il concessionario saranno disciplinati mediante convenzione che dovrà contemplare una polizza fide e ossoria a garanzia dell'ente comunale. Lo schema di convenzione fa comunque riferimento alla parte seconda del regolamento per l'installazione di chioschi e strutture di ristoro all'aperto annesse locali di pubblico esercizio. La misura adottata da Palazzo San Francesco si spera a questo punto che agevolerà davvero i commercianti ogni anno alle prese con il rinnovo dei permessi e con una burocrazia che recano pochi ostacoli all'incassi e gli indotti economici. In passato per un'autorizzazione occupare solo pubblico si è arrivati anche a proteste eclatanti. Resso la cronaca con la vicenda delle pistole rubate. Nulla di fatto dopo tre giorni di ricerche. Intanto proseguono le indagini a tutto campo della polizia dentro e fuori città. Sentiamo nel servizio di Andrea D'Aurelio. Ancora nessuna traccia delle 25 pistole rubate nei giorni scorsi a un collezionista sulmonese. Dopo tre giorni di ricerche a tappeto dentro e fuori sul Mona vanno avanti le indagini condotte dalla squadra anticrimine del commissariato di via Sallustio al momento ancora con esito negativo. Tutto è cominciato dalla denuncia del collezionista dopo il furto che risale alla notte fra il 26 e il 27 aprile. Da lì è scattato il blitz di carabinieri e polizia alla frazione Cantone fra Sulmona e Introdacqua con sei pattuglie che hanno passato al setaccio la zona senza rinvenire le armi rubate ma trovando solo alcune dosi di stupefacenti. Operazione questa chiusa dei carabinieri della compagnia di Sulmona che coordinati dal maggiore Florindo Basilico hanno arrestato una persona e ne hanno denunciate altre due. La vista della droga è quindi venuta fuori al margine delle perquisizioni e dei sopralluoghi mentre il filone che resta aperto è quello delle armi rubate. Al momento bocche cucite da parte degli inquirenti che non abbassano la guardia e vanno avanti senza sosta con le ricerche. Al momento sono diverse le zone batture dei poliziotti a cominciare da Cantone passando anche per Prato la Peligna e Pettorano sul Gizio. Si cerca di venire a capo di una vicenda assai delicata. Al momento non ci sono risvolti concreti. E adesso la cronaca ci porta all'Aquila. Nello scorso fine settimana gli operatori della sala operativa avevano ricevuto sull'utenza 113 una telefonata con la quale si avvertiva che all'interno di un ristorante della città era in corso una lite tra due avventori. È stata inviata immediatamente una volante. Gli operatori giunti sul posto avevano accertato che poco prima vi era stato un alterco per futili motivi tra due donne sfociato poi a seguito di insulti in una colluttazione tra le stesse. Dalle testimonianze è stato accertato che le contendenti erano passate dalle offese verbali alle mani schiaffeggiandosi e graffiandosi a vicenda sino a ricevere l'una un pugno in pieno volto da parte dell'altra. Nonostante la presenza degli agenti le donne continuavano ad inveire tra di loro minacciando reciproche querele così da costringere gli operatori per riportare la calma ad allontanarle non prima però di averne denunciata una per ubriachezza molesta dopo aver riscontrato un forte alito vinoso si legge in una nota della polizia di stato dell'aquila e adesso lasciamo la cronaca e passiamo alla politica sul monese bufera nel partito democratico qui non stiamo a teatro e quanto afferma il segretario del circolo cittadino dante che sfiducia il presidente dimissionario sentiamo tutto nel servizio di andrea daurelio il partito democratico non è un teatro contandoli palcoscenico non è nemmeno la passerella di una sfilata dove si attende solo il vestito di punta dello stilista dura la reazione del segretario del circolo pd sergio dante alla notizia delle dimissioni del presidente sandro de panfilis un metodo che il giovane segretario non ha condiviso e per stigmatizzare la condotta dell'ormai ex presidente non usa mezzi termini sto ancora aspettando la comunicazione delle dimissioni di chi ha preceduto sandro de panfilis e in calza dante con ogni probabilità tra qualche mese starò qui ad aspettare che arrivi dal partito la comunicazione delle dimissioni di sandro de panfilis dante punta il dito contro chi è inteso male l'essere parte del pd modi che puntano più alla spettacolarizzazione del ruolo che si riveste specifica piuttosto che al fare del proprio ruolo qualcosa di utile e proprio su questi due fattori tempi e modi dovremmo ricalcolare e perché no forse anche metabolizzare quella che ci piace tanto chiamare inversione di tendenza il partito democratico non è un teatro con tanto di palcoscenico non è nemmeno la passerella di una sfilata dove si attende solo il vestito di punta dello stilista il partito democratico è una comunità che ha come primo scopo e valore ritrovarsi faccia a faccia a discutere e dire la propria su cose utili esistono delle regole e quelle regole è ora di cominciare a rispettarle il segretario rimarca la necessità della partecipazione all'assemblea anche per dissentire perché non esiste nessun social network o nessuna chat di whatsapp che possa sostituire la funzione di un'assemblea già convocata e così dante annuncia la sfiducia dei panfili sin quando non sono mai arrivate le dimissioni e l'elezione di un nuovo presidente in assemblea sul trasferimento della scuola a prato la peligna la polemica è fine a se stessa il sindaco di prato la peligna antonella di nino ribatte al gruppo prato la insieme sentiamo la realtà è che questa amministrazione si sta occupando seriamente con grande responsabilità delle condizioni del corpo surentesco prato lano a iniziare proprio dal prossimo trasferimento dei bambini della materna di via indipendenza nell'edificio confortevole e sicuro di via codacchio il sindaco di prato la peligna antonella di nino risponde a prato l'insieme sul trasferimento della scuola di piazza indipendenza dal gruppo di minoranza avevano lamentato la mancanza di confronto ma il primo cittadino senza indugio rispedisce le accuse al mittente sulla vecchia proposta del gruppo consigliare di prato l'insieme c'è quella di trasferire tutti gli studenti delle scuole pratolani nell'attuale serie del comune presentata mesi fa senza peraltro allegare progetto spiega di nino gli uffici hanno già evidenziato criticità sia di carattere economico legate ai consistenti lavori di adeguamento che di rilevanza funzionale per il trasferimento degli attuali uffici comunali nella sede che li ospitava prima della costruzione della nuova struttura del municipio insistere nuovamente nel riproporre un disegno pieno di difficoltà e costosissimo parlando davvero senza cognizione di causa di atteggiamento monarchico di questa amministrazione che sta mettendo in campo tutte le iniziative possibili per migliorare le condizioni in cui vivono quotidianamente gli studenti pratolani in attesa della costruzione del nuovo polo appare davvero esercizio di polemica fine a se stessa risibile poi se questa accusa arriva da una consigliere di opposizione che nell'ultima seduta del consiglio comunale ha abbandonato l'aula orlando senza motivo in piena discussione sottraendosi ancora una volta al confronto democratico del resto e le criticità che la mia amministrazione sta affrontando sono certamente anche il frutto delle sue scelte perché nessuno dimentichi che a quell'epoca era vice sindaco conclude antonella di nino riferendosi ad alessandra tomasilli prato la peligna in generale tutta la valle peligna sono stati colpiti ieri da un lutto per la morte dell'avvocato giovanni margiotta il servizio è affidato ad andrea daurei un principe del foro un sindaco che ha dato tanto al suo paese un uomo garbato e per bene prato la peligna perso tutto in una domenica c'è tristezza e sgomento nella cittadina nella valle peligna per la morte di giovanni margiotta 82 n decano dell'ordine forense di sulmona se ne andato in punta di piedi lasciando un bagaglio di ricordi legato alla sua vita professionale professionale umana e istituzionale classe innata ironia intelligenza arguta professionalità fuori dall'ordinario hanno sempre distinto l'avvocato che ha ricoperto prestigiosi incarichi professionali istituzionali ed è stato anche sindaco di prato la peligna per due volte prima nel 1966 a soli 30 anni e poi nel 1985 nel suo mandato di primo cittadino rinsaldo i legami con gli emigranti soprattutto in canada ha formato nel suo studio legale generazioni di avvocati ma è stato anche corrispondente del messaggero dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza messaggi ricordoglio sono arrivati le dipendenti del cogesa dove figlio enzo è amministratore unico e dal sindaco di prato la peligna antonella di nino l'amministrazione comunale di prato la peligna esprime il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell'avvocato giovanni margiotta sindaco del paese alla fine degli anni 80 personalità di grande spessore umano e culturale uomo di diritto di raffinata eleganza così lo ha ricordato il primo cittadino alla famiglia margiotta le condoglianze di onda tg disagi per una settimana al cinema pacifico di sulmona dove ci sono stati problemi tecnici si riparte adesso regolarmente con il viaggio il film dedicato alla transiberiana sentiamo in tilt per una settimana e proiettore del cinema pacifico di sulmona la programmazione è stata quindi sospesa per il guasto tecnico dell'ultimo minuto che ha fatto saltare anche l'incontro con gli attori del film il viaggio una delle novità della nuova gestione targata tali srl una raffica di messaggi si sono susseguiti sulla rete sociale di facebook dove gli utenti vengono costantemente informati sulla programmazione l'attività del cinema è bastato poco per generare qualche preoccupazione che subito rientrata oggi si ricomincia se riprende nel solco di quel programma già tracciato che vedrà finalmente la storica sala cinematografica di via roma aprirsi a confronto con gli attori il pierone recentemente si è registrato con la rassegna fermi al cinema curata dal polo scientifico tecnologico dell'associazione sul buonacinema che ha portato una ventana di freschezza in quella sala che si frequentata ma non in tutti i periodi dell'anno e non in tutti i giorni della settimana si studiano infatti nuove formule come quella del drink ad abbinare a biletto d'ingresso o la pericinema progetto che non sarà possibile far decolare subito dal momento che servono altri fondi per i lavori di adeguamento della sala se ne sono andati circa 100 mila euro il cinema resta quindi in piedi ma la partecipazione dei sulmonesi lascia comunque a desiderare anche se soprattutto nei weekend le presenze in sala non deludono le aspettative dei gestori tra il pubblico abituale ci sono gli over 65 mentre mancherebbero all'appello ai giovani un dato che conferma come spesso l'esercizio della lamentela prevale sull'esercizio del fare intanto da oggi torna la pellicola interamente girata fra abruzzo e molise il viaggio prodotto dalla incas di campo basso vede fra i protagonisti attori come maurizio santilli daniela terreri fabbio ferrari ghetano amato marco caldoro daniela staltieri e racconta le affascinanti storie dei passeggeri del treno storico che va da carpinone a sulmona la cosiddetta transiberiana d'italia un percorso incantevole fra le montagne dell'aperino centrale che viene raccontato con delicatezza ed ironia da arciero anche grazie alle musiche del maestro antonio di orio e alla fotografia di francesco ciccone a breve sarà fissato l'incontro fra il pubblico e gli attori che doveva tenersi lo scorso 27 aprile come a dire che il cinema resta in viaggio adesso il calcio nella penultima giornata del girone f di serie di il matelica vincendo contro il san marino per 2 a 1 supera in vetta la vispesaro caduta in casa contro il campo basso per 2 a 1 pari per 0 a 0 nel derby abruzzese tra pineto e avezzano che consolidano il posto in zona playoff importante vittoria esterna dell'aquila per 1 a 0 sul campo della iesina che raggiunge la quarta posizione insieme al pineto vittoria esterna per il francavilla che si impone per 2 a 1 contro il san giustese contro la san giustese la vastese invece cade pesantemente in casa contro la recanatese per 4 a 1 vittoria fondamentale in chiave salvezza del san nicolò contro il fabriano cerreto per 3 a 2 che ora vincendo l'ultima sfida di domenica prossima si salverebbe senza fare i play out i nerostellati già retrocessi in eccellenza non vanno oltre l'1 a 1 contro l'olimpia agnonese nell'ultima gara casalinga stagionale e sfuma nel finale il successo dell'orgoglio dei nerostellati vediamo come è maturato l'1 a 1 al pallozzi di sulmona contro i molisani dell'olimpia agnonese il servizio è di giulio misticone termina in parità il match tra nerostellati e olimpia agnonese nel penultimo atto del campionato di serie d nei peligni mister di corcia deve rinunciare allo squalificato pupinski all'infortunato bit sindu il punteggio si sblocca già al quarto minuto con ricama per bruni che supera venturini per il vantaggio dei nerostellati l'agnonese avanza il proprio baricentro alla ricerca del pari ceria su punizione chiama in causa parente per un duello che si ripete poco dopo i molisani fanno la partita ma la mira di ceria non è quella giusta nemmeno sul nuovo tentativo del numero 10 ospite mentre alla mezz'ora parente e di ciccio vanno vicini al disastro in compartecipazione con l'agnonese che non riesce ad approfittarne la conclusione di ferraro crea altri grattacapi apparente la sua presa non è delle migliori prima del riposo si rivedono i peligni jacobucci riceve in aria ma sul suo suggerimento non arriva nessuno per la zampata vincente in apertura del secondo tempo i nerostellati sfiorano il raddoppio con e riceve da bruni e in uscita disperata venturini tocca il pallone prima del contatto con l'attaccante peligno l'azione prosegue e un washi trova fra botta a salvare sulla linea i molisani insistono e sulla punizione di ferraro e giglio a mandar fuori di testa da buona posizione al settantesimo ed el gizzi che rischia di combinarla grossa il palo da una grossa mano apparente che poi rischia ancora sull'iniziativa dei molisani all'ottantatresimo jacobucci perde il pallone fatale per i nerostellati ferraro si invola verso l'area di rigore pratolana pacella entra in scivolata con l'arbitro emanuele di pisa che concede il penalty dal dischetto de stefano spiazza parente per l'uno a uno al novantesimo a bonkelet jacobucci è il contatto sul quale il direttore di gara non assegna il rigore scatenando le proteste dei peligni che all'ultimo respiro rischiano grosso sulla conclusione dello stesso a bonkelet disinnescata da parente finisce uno a uno un punto che tiene i nerostellati a meno due dalla penultima piazza occupata dal fabriano cerreto alla vigilia dell'ultimo turno di campionato che metterà di fronte le due squadre seguiremo le interviste ai due tecnici di corcia dei nerostellati e di meo dell'olimpia agnonese nel nostro speciale calcio del lunedì che andrà in onda alle 14 al termine di questa edizione del nostro telegiornale passiamo adesso al campionato di promozione nell'ultimo turno del girone b di promozione del delfino flaccoporto con il pari interno contro la fate rangelini abruzzo per uno a uno ottiene il punto che gli serviva per vincere il campionato e può festeggiare così l'accesso in eccellenza la val di sangro batte il casalbordino 2 a 0 ed accede direttamente alla finale playoff che disputerà con la vincente tra casalbordino e ortona in coda il raiano batte la casolana 3 a 1 ed evita i play out guadagnando la salvezza la virtus pratoli invece pareggia in casa con il real tre ciminiere per uno a uno e la salvezza per i pratolani dovrà passare adesso attraverso i play out da giocare domenica prossima in gara secca a pescara contro la fate rangelini abruzzo il sulmona si è visto sospendere la gara a palombaro alla mezz'ora del secondo tempo in quanto i padroni di casa che avevano iniziato la partita in nove non avendo più giocatori a disposizione sono rimasti in sette con i sulmonesi che erano in vantaggio per 3 a 0 gara dunque vinta a tavolino dal sulmona che termina il campionato a 51 punti ma con un ritardo di 14 punti dalla seconda posizione che non gli consente la disputa dei play off nella penultima giornata del girone c della prima categoria importante affermazione esterna del bugnara che batte il villamagna 2 a 0 e dopo l'ultimo turno di domenica prossima dovrà prepararsi ai play off da giocare a cugno di il popoli pur rimanendo in quinta posizione grazie alla vittoria di ieri con il giuliano teatino per 5 a 1 e fuori dai play off visto il distacco dalla seconda ed anche se domenica dovesse finire a pari merito con il bugnara sarebbe svantaggiata rispetto ai bugnaresi per gli scontri diretti il pacentro ferma in casa la capolista scafa sul risultato di parità di 2 a 2 in coda altra vittoria superlativa della moronese che batte il già retrocesso pescina per 7 a 1 la squadra di bagnaturo domenica concluderà ufficialmente il campionato in terz'ultima posizione per poi giocarsi play out a san pelino guarda caso proprio contro l'avversaria dell'ultima giornata di domenica prossima e vediamo adesso l'ampio successo della moronese contro il pescina per 7 a 1 con cinque reti di liberatore e una doppietta di dimascio il servizio e di antonio casasanta vittoria doveva essere vittoria stata per la moronese che ha battuto con un punteggio larghissimo il pescina che si è presentato qui al campo del bagnaturo solo con dieci uomini alla trentunesima c'è la prima rete della moronese con il liberatore il portiere lezzerini non riesce ad agganciare il pallone liberatore tutto solo davanti alla porta realizza il gol dell'1 a 0 che sblocca il risultato il raddoppio arriva di lì a poco al trentaquattresimo con dimascio ancora con una palla ferma rimessa laterale di varelli ad aggittata lunga il portiere lezzerini smanaccia e sotto misura c'è invece dimascio che realizza per il 2 a 0 la moronese potrebbe chiudere i conti già nel corso del primo tempo al quarantatresimo con all'ulli smarcato molto bene da dimascio all'ulli tutto solo davanti alla porta tira a botta sicura dando l'illusione del gol la palla termina sull'esterno della rete nel secondo tempo la formazione di casa cerca di spingere di più per chiudere definitivamente il confronto al primo minuto janna morelli solo in aria la sua conclusione termina alta al quindicesimo parte la vendemmiata di gol della moronese nel corso del secondo tempo con un gol di liberatore che smarca di in aria da all'ulli realizza per il 3 a 0 al diciannovesimo ancora liberatore questa volta è di poco alto sulla traversa al ventitresimo c'è il fallo da rigore su smarrelli entrato un minuto prima fallo da rigore commesso da ranalli l'arbitro di meo congete la massima punizione che lo stesso matteo liberatore realizza per il tris personale e il 4 a 0 della moronese al ventiseiesimo ancora liberatore protagonista ancora con un cross molto bello smarcato da all'ulli il cross al centro e di piatto liberatore da due passi in sbaglia spiorando la traversa al trentaseiesimo la moronese fa 5 con dimascio dentro a di rigore smarcato molto bene a botta sicura batte il portiere lezzerini si sveglia un po il pescino la moronese allenta un po la morse alla trentanovesimo mastrone il capitano della formazione marsicana al limite dell'aria con un pallonetto supera il portiere musella per i gol della bandiera porre ancora liberatore non pago dei gol segnati al quarantunesimo sul calcio di punizione realizza il 6 a 1 e poi la settima rete ancora sempre con liberatore dopo che dentro la rete di rigore ha superato il difensore di cerchio e batte a rete il portiere lezzerini si chiude dunque ancora con un largo successo una vittoria importante per la moronese che continua a sperare dunque nel raggiungimento della salvezza domenica prossima match importante a sampelino ovviamente però con questi sei punti conquistati in casa la moronese c'è e quindi la salvezza può essere raggiungibile nel girone b di seconda categoria lovidiana conclude il campionato con una sconfitta per 4 a 0 sul campo del deportivo luco che aveva bisogno della vittoria per rientrare nei playoff playoff che vedranno le sfide plus ultra deportivo luco e ruvium lo schioppo i sulmonesi concludono il campionato in sesta posizione a 39 punti in coda invece si giocheranno la salvezza nei play out con l'armele e castronò lo sport il calcio conclude questa edizione del giorno del nostro telegiornale ma il calcio continua sulla nostra emittente con lo speciale del lunedì in onda appunto al termine di questa edizione del nostro telegiornale subito dopo la sigla conclusiva e qualche consiglio pubblicitario speciale calcio che sarà replicato questa sera alle ore 21 grazie per essere stati con noi buona giornata grazie per aver guardato il nostro canale